Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video un ringraziamento e un saluto a tutti gli amici di JWS Juventus Women Supporter e niente, dunque, scusate per la qualità del video purtroppo, come sapete, uno, sono in montagna quindi la postazione è quella che è mi arrangio con quello che posso due, purtroppo la telecamera è scarica oggi sono stato via tutto il giorno non sono riuscito a caricarla quindi sto usando il cellulare però, dal prossimo video sicuramente tornerò con i vecchi metodi, quelli, diciamo, più nitidi e migliori possibili dunque, Juventus Lugano Juventus Lugano che finisce 2-1 per la Juve ma che sofferenza, che sofferenza mamma mia ragazzi primo tempo che la Juve oggettivamente ha dominato perché non c'era altro da dire se non proprio dominato perché la parola giusta è quella solo che poi, ragazzi, poi la palla non la butti dentro ha luco devastante però poi alla fine cosa succede? succede che loro fanno il primo tiro in porta nel secondo tempo lo svarione difensivo che purtroppo ci manca ci è mancata che posso dire gamma che per ogni sentimento non ha giocato e... si è visto, ragazzi alla fine e alla fine ci hanno segnato dopo pochi minuti e... non va bene insomma, non è molto una cosa bella però alla fine dai ragazzi l'importante tra l'altro partita che a un certo punto sembrava oggettivamente finita perché ormai l'1-0 sembrava il risultato deciso ormai e fortuna vuole che la Juventus ha trovato due lampi nel finale proprio dallo scadere al 41esimo con Cernoia e al 46esimo con Leon Sanderson che dimostra insomma qualora ce ne fosse ancora bisogno ma non credo insomma la qualità di questa giocatrice e la sua soprattutto la sua incidenza perché ragazzi è una giocatrice che che quando gioca si sente si sente si ve lo capisci lo capisci non c'è nulla non c'è niente da fare sono giocatrici di esperienza e tutto qua bene il tridente tutto fantasia con Girelli Aluco Bonasea però ripeto alla fine era un po' rammaricato e anche incazzato diciamolo come va detto quando ho visto il risultato di 1-0 perché oggettivamente perdere con Lugano ti avrebbe fatto girare le scatole ma niente non perché ho qualcosa contro Lugano ma proprio perché francamente credo che la Juventus dopo le due scopole inglesi avesse bisogno di un risultato importante da far vedere al pubblico insomma in casa con Lugano insomma far vedere insomma una buona qualità di gioco la qualità di gioco si è vista ma se la palla non la butti dentro è chiaro che poi chiunque diventa insidiosa come squadra e Lugano ha giocato la sua partita difensiva non è che ha fatto chissà che cosa ripeto ha fatto un tiro ha fatto gol però in Italia ci saranno un sacco di partite così dove ci si chiuderanno perché sanno che la Juve è più forte e cercheranno di farci gol alla prima occasione noi dobbiamo essere bravi assolutamente a non prenderlo oggi non lo siamo stati però va bene era un amichevole conta quello che deve contare conta il fatto che è una squadra sicuramente da work in progress la nostra Juventus women però che fortunatamente ha portato a casa il risultato perché sono mi avrebbe dato un po' fastidio perdere tre partite su quattro ecco invece così ne vinte due ne perse due e adesso è stata annullata la partita quella contro le cinesi non penso per un problema proprio delle cinesi quindi sicuramente non c'entra nulla la Juventus e basta adesso andiamo la prossima partita che il prossimo video sarà della prima partita ufficiale non vediamo l'ora a meno io non vedo l'ora e ragazzi a questo punto a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento con i prossimi video che sicuramente ripeto saranno più uniti di questo qui ciao a tutti